Anche quest'anno abbiamo superato il momento più complesso che è il sabato sera. Fatemi dire una cosa, sarà un caso, sarà non so che cosa, ma ieri sera ho visto finalmente una festa, un sabato sera tranquillo, un sabato sera che non è degenerato, una serata che finalmente testimonia che c'è la consapevolezza che questa è una festa, quindi un momento di allegria, un momento di socializzazione. Chissà che finalmente sia diventato un sabato sera civile, io me lo auguro, lo auspico fortemente.